Abbiamo chiamato Gilberto perché ci è sembrato geniale quello che lui è riuscito a fare, la sua bravura, la sua intelligenza e quindi abbiamo deciso che volevamo un personaggio della Disney, ci è venuto in mente come personaggio della Disney il nipote di Pippo, il nipote geniale di Pippo e da lì è nata l'idea di chiamarlo Gilberto. Una storia insolita ma lieto fine quella di Gilberto, un piccione investito da un'auto che fortunatamente ha trovato chi si è preso cura di lui e lo ha adottato. È stato infatti trovato per caso ferito nel centro storico aretino, vagava per strada da circa un mesetto. Sicuramente è stato molto bravo a riuscire a cavarsela in una situazione comunque complessa perché un mese a terra per un piccione è sicuramente una prova di resistenza non da poco. È stato così soccorso e curato da un veterinario che ha accertato la frattura dell'ala e la conseguente calcificazione. Gilberto infatti a causa delle lesioni riportate non potrà più volare. Sappiamo che i piccioni sono considerati un po' come portatori della peste, delle malattie di tutti i generi e tipi. In realtà è vero che sono animali che possono portare delle malattie ma è chiaro che innanzitutto occorrono altissime concentrazioni e poi la possibilità di prendere la malattia dal piccione è piuttosto bassa. Aiutare un piccione in difficoltà non significa correre un rischio, significa semplicemente aiutare un animale che comunque vuol vivere e che ha diritto alla vita. A prendersi cura di Gilberto adesso c'è Giulia. Attualmente vive con noi, abbiamo deciso io e la mia famiglia di prendercene cura, perlomeno finché non troviamo comunque un santuario, un posto più adatto dove lui comunque possa avere una vita seminormale. Un santuario per animali è un luogo dove gli animali non sono considerati oggetti, dove gli animali vengono considerati in tutta la loro unità, quindi sono esseri senzienti che hanno un nome, hanno un'identità propria e quindi vengono rispettati al 100% e servono principalmente per salvare gli animali in difficoltà, ma anche per mandare appunto questo messaggio che ogni animale è un essere a sé e che quindi merita in assoluto il diritto alla vita come tutti noi.